C'è un fatto che ci siano delle criticità? I processi di innovazione non possono essere sì che semplici l'innovazione per se stessa, finalizzata da se stessa, no. Deve essere un'innovazione che va sui prodotti, sui processi, sulle nuove idee anche per una società che sta cambiando, sta mutando. I processi oggi di comunicazione, quelli mediatici, quelli multimediatici che gestite voi, hanno totalmente sconvolto il modo di essere. L'iPhone è diventato un modo per comunicare con tutti, tutti abbiamo questo vizio, questa tendenza di stare su iPhone e quindi il sistema di comunicazione e le app rappresentano qualcosa che può diventare sul mercato interessante per sviluppare nuove imprese e nuova creatività. Come regione stiamo puntando a sostenere le imprese creative, a sostenere i giovani creativi, quindi a dargli anche spazi economici perché possano mettere a punto delle loro idee che possono diventare micro imprese. Perché il futuro non sarà molto più quello di un'occupazione dipendente, ma molto di più quello di un'occupazione che è simile a una micro impresa, quasi professionale. Ognuno comincerà a fare da sé, con questo collegamento internazionale che è legato alla comunicazione agli iPhone, ci potranno essere occasioni di business molto più interessanti di quelle che abbiamo attualmente. Però va cambiata la mentalità, va cambiato il modo di vivere, il modo di essere di tutti noi, che sta cambiando puntualmente. Quello che una volta era un handicap per noi, la distanza rispetto ai mercati europei, può diventare un'occasione perché noi stiamo puntando come investimenti a fare una banda ultralarga, molto veloce in Puglia, proprio per agganciare il resto del mondo.